bello a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video della stagione 2 della master league siamo con l'inter e stiamo su ispro evolution toucher 2 signori vediamo da uno scorso video in cui siamo riusciti a ottenere la nostra prima vittoria contro l'ajax che ci ha portato i primi tre punticini siamo sempre ultimi in classifica però sempre meglio di niente abbiamo un attimino staccato lo zero dalla zona punti e questa è già tanta roba signori piccolo parentesi ho fatto una cosa off camera nel senso avevo ero partito col video ma non avevo me l'ho dimenticato a mancare il tasto della registrazione abbia fatto il nostro primo acquisto signori che è babangida so perfettamente che mi starete odiando perché per questo acquisto che forse non è non doveva essere fatto però signori ho bisogno di lui che secondo me messo in una determinata posizione del campo ci può dare molto aiuto prima di partire il video però vi ringrazio per i like per i commenti precedenti e per il supporto vi ricordo di iscrivervi al canale allora io se non sbaglio la formazione l'avevo avevo fatto qualcosina così non dobbiamo perdere tempo 8 mila ore a fare di nuova la formazione formazione bravissimo carica bravi tutti bravi abbiamo caricata quindi se andiamo su impostazione formazione lui carica e mi mette la formazione che ci piace a noi signori babangida è tornato babangida col numero 20 è tornato per risollevare le sorti di questa squadra signori per puntare all'acquisto di ronaldo per puntare all'acquisto di ronaldo è lui il nostro prossimo acquisto signori non sopra se non non compro più nessuno non compro più nessun altro giocatore se non direttamente ronaldo signori qui lo dico e qui lo faccio signori ronaldo è il nostro il nostro prossimo acquisto calma 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 brava bravo mi piace questo questo gioco di questo gioco di merda mi piace questo gioco di merda ecco era proprio la frase giusta da dire dai mannaggia signori allora abbiamo il dente avvelenato col marsiglia io non ve lo vorrei non ve lo vorrei far dimenticare bellissimo la palla per il bamba per il bamba che decide di partire mi sono imbappinato pure io però vedete secondo me se il bamba messo in quella posizione viene lo sfruttiamo bene valeri si becca un cartellino giallo pesante e piress ammazziamo piressi signori e le cose che succedono cose che succedono per non rimane in campo il bastardo bastardo rimane in campo è giustamente è giustamente quindi era tutta una finta quella che lui si era fatto male c'è qualcuno lì c'è il bamba c'è il bamba che però sbaglia il movimento babangita mio in 8 mila ivanov che cazzo lo ci fai lì vanno per mio che brutta palla con te completamente fuori dalla 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 tua posizione ma perché babangita sta così largo dico io dovresti stare proprio no 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 è fuori babangita io capisco che sei una che sei un uomo di fascia ma perché stai così largo mannaggia a te a chi non te lo dice pure dovresti stare un pochino più stretto perché sta così largo babangita qualcuno me lo sa dire non lo so gli piace troppo giocare sulle fasce signori noi non riusciamo uscire si non riusciamo uscire se questi non segnalano non riusciamo non riusciremo a uscire più dalla nostra metà campo a babangita bravo babangita bravissimo babangita bravissimo babangita sbendalo così dai così signori mi è partito uno sbendalo che ci sta tutta la vita sbendalo vuol dire ammazzalo per colpisci lo grande babangita signori ha provato subito il tiro a piazzarle in contropiede il portiere siamo in vantaggio 1 a 0 signori siamo in vantaggio 1 a 0 calma e sangue freddo calma e sangue freddo questa cosa appartiene lo scorso video contro la x poi non era mai successa quindi sono situazioni nuove di trovarci con un gol di vantaggio quindi per un attimino a saperle gestire sarebbe buono anche riuscire a fare il 2 a 0 subito signori no è vero allora babangita giustamente ci dà un attimino le stesse dai così dai così buco centrale buco centrale del marsiglia porca miseria 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 porca no vabbè ma dai ma come si fa beccato la bandierina è il loro dodicesimo uomo in campo la bandierina praticamente va dannaggia la pallone preciso per babangita allora stiamo calmi signori stiamo calmi abbiamo un gol di vantaggio abbiamo un gol di vantaggio non dobbiamo farci prendere dal 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 da no di orca mio si è preso un cartellino giallo pensavo di non arrivarlo a prendere invece l'abbiamo preso preciso lux in grandire in porta ma finisce fuori con calma calma relax calma relax calma relax calma relax calma la babangita il movimento era troppo troppo prevedibile troppo prevedibile il movimento grandissimo valeri che però invece fa un momento che nessuno si aspettava mira perché ho accelerato i tempi con miranda perché ho accelerato i tempi con miranda e loro giocano pure cogliono 2 però bravi bravi pallone che arriva a bolatta che però non deve essere lui l'uomo l'uomo che deve ricevere i palloni ma attenzione cellini cellini mio cazzo non la fai cellini tiene notino met 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 e tu met no che buco terribile fuori sto pallone va bene così non so a chi a babangita va bene papagita fatte matematica fatene papagita credi lo spazio vatten no dai non lo puoi recuperare però così a babangita mannaggia da una misera infame io capisco tutto però dai un minimo di velocità in più da deve avere babangita sennò che cazzo no 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 mettere a giammonito no si becca il primo giallo metti punizione al limite di nuovo lux in questa volta prende meglio la mira la palla finisce sulla barriera viene spazzata via subito attenzione grande attacco grande pallone riconquistato no ma che cazzarola di passaggio era un filtrante per babangita signori era un filtrante per babangita lì no valeri ammonito calma e stango e peggio signori valeri lo andiamo a levare per miranda valeri per miranda cambia giocatori miranda giustamente lì non ci può stare facciamo giocare ducic ducic andiamo un attimino modifica posizione e babangita ci diventa l'unico trequartista no ma porca miseria ma porca miseria bravo ivano trentasettesimo abbiamo l'uomo in meno signori abbiamo l'uomo in meno abbiamo ricostruito la difesa ma comunque abbiamo un uomo in meno babangita cazzarola ti ho messo trequartista mi spieghi che cosa cazzarola ci fai lì così chiedo per un amico babangita mio signori sono tre punti troppo importanti signori per perderli strada strada sono tre punti troppo importanti tre punti importantissimi sono tre punti importantissimi per perderli strada strada la partita è lunghissima io me ne rendo conto ma dobbiamo rimanere concentrati dobbiamo rimanere concentrati calma calma buttala via fregatene fregatene non ci pensare buttala via dove girare dall'altro lato dove girare dall'altro lato signori non ha capito niente non ha capito niente e nemmeno lui ha capito niente di questa partita nemmeno lui ha capito niente di questa partita va bene arbitro fischi la fine della partita giusto per giusto per 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 evitare che mi vengano infatto giusto ora niente pallone cross continue da una parte dall'altra del campo fino a quando loro non la buttano fuori perché giustamente doveva esserci l'ultima azione in cui devono riuscire a tentare il gol mamma mia mamma mia ripartiamo 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 concentrati concentrati calma e relax calma e relax calma e relax calma e relax signori calma e relax sarà difficile abbiamo avuto le occasioni per fare il 2 a 0 le abbiamo avute signori ce le siamo ce le siamo giocate male noi 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 mamma mia babanjida come non mi fai vedere il replay ma sei un bastardo che non mi fai vedere il replay questa è una grandissima azione da gol babanjida babanjida guarda tu mi vuoi dire che lui non era riuscito a recuperare sto pallone met grande ipano tina lì tina lì non ti preoccupare tina lì stai tranquillo fai rischiare tutti con calma con calma tranquillità giochiamola con calma giochiamola vicino cerchiamo il compagno libero secondo me comunque il mio joystick che ha problemi secondo me è decisamente il mio joystick che ha problemi perché io gli dico di fare una cosa e lui ne fa un'altra calcio d'angolo perché buttarla dall'altro lato non ti piaceva no per forza il calcio d'angolo gli ha dovuto regalare parte il traversone pallone al centro pal doppio pallone al centro mamma mia certo piress che tutto questo si era fatto male a inizio gli avevo dato un pestone che si ricorda praticamente per tutta la vita e lui giustamente ancora in campo lui giustamente ancora in campo babanjida l'apre brevissimo cellini 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 inventa di qualcosa calcio d'angolo va bene va bene va bene va bene va bene 12 per il bamba che riesce a girarsi il bamba il bamba il bamba il bamba calcio d'angolo ancora devo passare la cazzo devo passare luce ancora il bamba il bamba il bamba riesce a girare il difensore il bamba un mannaggia mannaggia non non questa non l'ho capito alla stoppata di petto la dovuta buttare per forza fuori e va bene e va bene abbiamo dovuto regalare una rimessa laterale signori abbiamo dovuto regalare la rimessa laterale perché sennò piangeva no 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 meno male meno male che non ha tirato meno male che non ha tirato signori se da lì tirava erano guai per tutti se da lì tirava erano problemi per tutti problemi per tutti problemi 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 erano problemi gravissimi pallone comunque riesce arrivare a matt niente niente sono ripartiti loro per 10 centrali metto ci prova metto ci prova attenzione niente ce la devono pareggia per forza ventunesimo ventunesimo ivan ottiene lì ivan obtiene lì con calma con calma con calma possiamo il gioco con calma apriamo 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 no 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 escivano grandissimo ivanov lì ci voleva lo scatto di babangita che però non parte un pochino troppo 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 frenetic troppo frenetic troppo frenetic troppo frenetic ivanov è tua grande la parata plastica di ivanov fai schierare tutti belli tranquilli e coccolosi giocala lì bravissimo bravissimo apriamo bravo girala perfetto no cazzarola ma perché dico io ma perché dobbiamo complicarci la vita ma perché dobbiamo complicarci la vita e non riusciamo più uscire signori non riusciamo più uscire loro non la buttano fuori nemmeno se tu glielo chiedi pregando no ivanov sto soffrendo come una cosa che non 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 vi so descrivere signori va bene butta la sotto tutta la sotto calma 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 e il sono di nuovo e sono di nuovo qua è incredibile no non 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 ci andare pure tuo in contrasto no sì vabbè dai signori siamo in nove siamo in nove signori siamo in nove siamo in nove siamo in nove mortacci loro siamo in nove chi mi ha buttato fuori l'esterno siamo in nove 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 vi rendete conto che siamo in nove siamo in nove signori Al trentacinquesimo Lui tira in porta la butta fuori Siamo in nove signori Siamo in nove Non so che cosa inventarmi Io non so letteralmente che cosa inventarmi Non so letteralmente che cosa inventarmi signori Grande Ivanov, tira lì, tira lì, tira lì Tira lì, tira lì Meno fino al quarantesimo Tira lì, tira lì, tira lì Gioca la giovane con calma Con calma, con calma Ivanov Troppa calma zio, troppa calma zio Facciamo girare il pallone Facciamo girare il pallone con molta calma Bamba, bamba, il bamba Il bamba provo una sua accelerazione Il bamba provo una sua accelerazione Prova il contro, il cross Cross, ma Castello è bassino Quindi non riesce ad arrivare al posto pallone Siamo al quarantaduesimo Porca miseria Devo tenerlo un pochino di più col bambangita Devo tenerlo un pochino di più col bambangita Calma, 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 calma Calma, 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 relax Calma, relax, calma, relax Fuori sto pallone Minuti di recupero, signori Minuti di recupero Minuti di recupero No, 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 no Albitro fischia, albitro, albitro, albitro 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 fuori Signori è finita Abbiamo vinto Abbiamo battuto il Varsiglia 1-0 In 9 contro 11 Mamma mia Partita decisa Dal gol di Babangida 13 tiri a 4 13 tiri a 4 Mamma mia Gara decisa dal gol di Babangida Arriva la seconda vittoria La seconda vittoria 8 punticini portati a casa Mamma mia signori Andiamo a quota 6 Siamo sempre ultimi Ma Marsiglia e Amsterdam sono più vicini Marsiglia e Ajax sono più vicini Mamma mia che sofferenza Detto questo signori Vi ringrazio per i like Per i commenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao